Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio a nome di Anfas per l'invito. Siamo stati qui anche ieri con la Presidente regionale di Anfas, la signora Di Sabatino. Sicuramente incontri come questi servono a creare ancora più rete nel territorio. Quello che cercherò di fare oggi è raccontarvi quella che è la legge 112, quindi il contesto di riferimento e soffermarmi anche su quella che è la normativa regionale, visto che siamo qui a Città Sant'Angelo, e raccontarvi anche alcune buone prassi che si stanno attuando e che si sono attuate nel passato. Allora, la legge 112 si inserisce proprio in quello che è un cambio di paradigma rispetto alla concezione di disabilità. In tutti questi anni l'espressione dopo di noi diciamo che evocava solo la necessità di avere strutture residenziali. Allora, tornando al contesto di riferimento, diciamo che fino a qualche anno fa l'espressione dopo di noi evocava la necessità di avere strutture residenziali, quindi strutture in cui ricoverare le persone con disabilità al momento della perdita dei propri familiari. Mentre con la legge 112 si sta cercando di far capire al territorio, alle istituzioni, ma soprattutto ai familiari e alle persone con disabilità stesse, che le persone con disabilità non possono essere tolte dalla famiglia all'improvviso quando i genitori non ci sono più o non possono più occuparsene, ma deve instaurarsi un percorso che quindi riconosca l'essere persona come tutti gli altri il diritto a non vedere spezzato il filo della sua vita. Tutto questo si attua in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che ricordiamo è stata ratificata dall'Italia nel 2009. Su questa, in base alla Convenzione ONU, consideriamo le persone con disabilità non più per le loro limitazioni, quindi come modello sanitario, o non più solo per la relazione che si crea tra tali limitazioni agli ambienti, ma proprio per il loro essere persone, quindi con il loro diritto intrinseco di avere un proprio percorso di vita da poter sviluppare in condizioni di pari opportunità con tutti gli altri. Questo diritto può essere attuato solo in condizioni di pari opportunità appunto con giusti supporti e sostegni, quindi all'interno di un modello che è quello dei diritti umani. Bisogna quindi supportare e valorizzare il percorso di vita delle persone con disabilità tenendo in considerazione non solo i loro bisogni sanitari e sociali, ma soprattutto, ed è questo il cambio di paradigma, le loro aspettative e tenendo in considerazione anche le relazioni in tessuto della loro esistenza. La legge 112, quindi a richiami sicuramente alla Costituzione italiana, ad esempio all'articolo 3 che riconosce pari dignità sociale e uguaglianza, ma anche alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quindi all'articolo 26 che riconosce rispetto al diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale, l'inserimento professionale, la partecipazione alla vita della comunità e soprattutto richiami alla Convenzione ONU, sia all'articolo 3 dove viene prevista la libertà per le persone con disabilità al pari degli altri di compiere le proprie scelte e soprattutto l'articolo 19 che richiama il diritto delle persone con disabilità a vivere nella comunità facilitando la piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando la possibilità di scegliere sulla base di uguaglianza con gli altri il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e che quindi non siano obbligate, come spesso accadeva, a vivere in una particolare sistemazione abitativa. Quindi non si intendono appunto soltanto strutture, ma una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l'assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all'interno della comunità, quindi una comunità che viene coinvolta in questo progetto. La finalità della legge 112 è proprio quello di prevedere appunto misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse della persona con disabilità grave, quindi ad alta intensità di sostegni, la cui disabilità non sia però determinata dal naturale invecchiamento da patologie connesse alla senilità. Evitare l'istituzionalizzazione ed attivare al contempo percorsi di deistituzionalizzazione e soprattutto, cosa importante, favorire il coinvolgimento delle stesse persone con disabilità nella predisposizione del proprio progetto individuale. I beneficiari appunto sono persone con disabilità grave, come abbiamo detto, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità e prive del sostegno familiare, sia perché mancanti di entrambi i genitori, ma anche nel caso in cui gli stessi non siano in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno genitoriale. Quindi non solo situazioni in cui le persone con disabilità ormai adulte, magari quasi anziane, abbiano già perso i genitori, ma anche un processo che intervenga nel durante noi, quindi di distacco dalla famiglia e di emancipazione verso una vita adulta e autonoma, appunto secondo il rispetto delle volontà della stessa persona con disabilità, anche nel caso in cui ci sia un'alta intensità di sostegno. Quindi non parliamo solo di persone con disabilità con patologie lievi, ma anche con un alto grado di bisogno di intensità di sostegno. La struttura è la legge 112, dall'articolo 1 al 4 individua le misure adatte a supportare il percorso di vita delle persone con disabilità, appunto nel durante e dopo di noi, e tali misure sono finanziate da un apposito fondo, che poi vedremo, mentre l'articolo 5 e 6 parla delle agevolazioni fiscali per polizze assicurative, agevolazioni fiscali e tributare per il trust. Quali sono le misure finanziabili con il fondo della 112, appunto questa legge istituita nel 2016? Una serie di misure. La prima è un percorso programmato di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per coloro che sono ricoverati in strutture, percorsi di deistituzionalizzazione. Alla lettera B, interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative delle caratteristiche di quell'articolo 3 che poi vedremo, quindi quali caratteristiche debbano avere queste strutture, che a noi piace chiamare case. Programmi di accrescimento della consapevolezza di abilitazione e di sviluppo della competenza per la gestione della vita quotidiana, quindi anche un graduale distacco, come dicevo prima, e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, quindi appunto a prescindere dal grado di intensità di sostegni. Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, sempre con le caratteristiche che poi andremo a vedere, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione, di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi, anche sostenendo forme di automuto aiuto tra persone con disabilità. Quindi le stesse persone, gli stessi ragazzi, gli stessi adulti, che noi continuiamo a chiamare ragazzi, ma spesso sono persone di 45, 50, 60 anni, che aiutati dai loro familiari o magari da associazioni, si mettono insieme e quindi con queste forme di automuto aiuto cercano di costruire queste innovative soluzioni alloggiative. In via residuale interventi poi alla lettera E di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare. L'istituzione del fondo, quindi è stato istituito questo fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare di 90 milioni di euro per il 2016, 38 milioni di euro per il 2017 e 56 milioni dal 2018. Va specificato, questo ANFAS tiene molto a farlo, che le risorse rispetto al fondo della legge 112 sono aggiuntive e non sostitutive di quelle già esistenti. Cioè una persona con disabilità che accede alla legge 112 ha una serie di interventi che sono specifici della legge 112 e vanno ad integrale quelle che sono già tutte le risorse di cui dispone e quindi questi interventi non sono sostitutivi. Poi vedremo magari l'esempio di un progetto per cui capiremo meglio. Questo perché? Perché la legge 112 deve inserirsi in quello che è il progetto di vita delle persone con disabilità. Infatti la norma prevede che non potrà essere attuata nessuna misura con risorse a valere sul fondo della 112 se le stesse non siano coerenti con il preventivo progetto individuale redatto ai sensi dell'articolo 14 della legge 328. Questo progetto parte proprio dalla valutazione dei bisogni, delle aspettative e dei desideri della persona e individua per qualità, quantità e intensità i supporti e i sostegni sia formali che informali, quindi la rete dei servizi sanitari e sociali ma va anche a vedere quelle che sono per esempio le risorse familiari che servono per migliorare la qualità della vita della persona con disabilità. Questi interventi, come dicevo, devono essere coordinati, non sovrapposti, proprio per valorizzarne l'efficacia. In questo caso specifichiamo anche che qualora si verifica ciò che dicevo prima, cioè che persone, famiglie si mettano insieme, questi progetti di vita devono essere verificati sia a livello singolo, quindi perché sono tutti progetti differenti, non c'è un prestampato di progetto di vita per la 112, va predisposto secondo appunto le aspettative e bisogni di quella persona, ma poi questi progetti devono essere anche coordinati tra loro, ad esempio in un progetto di co-housing, quindi va vista la situazione del singolo ma anche quella del gruppo. I progetti individuali devono appunto avvalersi anche di quello che è la metodologia del lavoro in rete, quindi una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona mediante lo strumento del progetto individuale, quindi rifarsi al modello biopsicosociale dell'ICF. Quello che noi utilizziamo e cerchiamo di diffondere all'interno di Anfas, ma anche nella rete dei partner con le istituzioni, è appunto lo strumento di matrice ecologica, cioè riusciamo a programmare un buon progetto che deve partire dalla valutazione dei profili di funzionamento della persona e delle sue autonomie, quindi la costruzione di una matrice ecologica, di tutti i bisogni e la situazione attuale che è quella della persona con disabilità e si stabilisce insieme alla persona con disabilità cercando di interpretare anche nei casi più difficili le sue volontà, dando la migliore interpretazione possibile delle sue volontà anche aiutati dai familiari o dai caregiver, per migliorare lavorando quindi sui vari domini della qualità della vita. Ricordiamo che i domini della qualità della vita sono benessere fisico, benessere materiale, benessere emozionale, partecipazione, inclusione, sviluppo personale, relazione interpersonale, conoscenza dei propri diritti. Cioè sono domini della qualità di vita che non riguardano le persone con disabilità ma ogni cittadino. E appunto fatta questa valutazione inquadrata alla persona in questa matrice ecologica, stabilendo degli obiettivi con lei, si vanno a predisporre quelle che sono le matrici dei supporti. Quindi si vanno a finalizzare le tipologie, il grado e l'intensità dai supporti da erogare e coordinare. Infatti il progetto individuale per una presa globale di presa in carico deve contenere tutti quelli che sono le risorse, a parte quelle informali, quelle formali erogate. Quindi all'interno del progetto di presa in carico c'è il progetto riabilitativo, ad esempio il progetto di integrazione scolastica, quello di inserimento lavorativo, quello di inserimento sociale, vengono racchiusi proprio per non sovrapporsi e andare nella direzione del miglioramento della qualità di vita. La ripartizione del fondo, questo fondo della 112 è stato ripartito annualmente e le regioni per utilizzarlo devono attenersi ai requisiti di utilizzo. L'annualità 2017 è stata ripartita con il decreto del 21 giugno 2017 e l'annualità 2018 col decreto del 16 novembre 2018. Quali sono, dicevamo, le tipologie abitative previste? Sono soluzioni di ospitalità per massimo 5 persone, proprio perché devono andare a riprodurre il più possibile le condizioni di un ambiente familiare. In caso di particolari bisogni c'è la possibilità di avere due moduli, diciamo da 5 persone ciascuno, per un massimo di 10 persone più due posti in sollievo. E appunto, dicevo, le soluzioni di co-housing devono riprodurre il più possibile le condizioni abitative. Questi sono gli unici requisiti, in quanto non sono previsti requisiti strutturali se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione. Le caratteristiche degli spazi, appunto, dovendo riprodurre la casa familiare, devono essere organizzati come spazi domestici con l'utilizzo di oggetti delle persone. Devono avere garanzia della tutela da riservatezza, quindi con camere preferibilmente singoli, ma magari possono essere anche dobbia, appunto, a seconda di quelle che sono le necessità e desideri della persona. Spazi per la quotidianità, per il tempo libero, ma anche poi l'attenzione ai bisogni specifici delle persone che andranno a abitare. Quindi, comunque, spazi accessibili, utilizzo di tecnologie domotiche assistive, comunque ubicate in zone residenziali o anche rurali, se però ci sono all'interno progetti di agricoltura sociale coerenti. Cioè, non andiamo a fare, dopo di noi, una casa in una zona che sicuramente non permette poi alle persone che vi abbiano di accedere al contesto. L'inclusione sociale è quella, diciamo, la finalità della 112. Quindi le regioni hanno dovuto programmare e definire i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e le modalità per la pubblicità e la verifica dell'attuazione delle attività svolte. L'Abruzzo ha provveduto con, questi sono gli atti, la DGR 375 del 2017, 614 del 2017 e l'ultima, in ordine di la 627 del 23 ottobre. Quindi, ha avuto la somma, la regione Abruzzo, di 1.980.000 euro per l'annualità 2016 e di 842.000 euro per il 2017. L'ultima, eh, DGR che vi dicevo, la 627 di ottobre, va ad integrare gli indirizzi attuativi, eh, delle prime due determinazioni. Ehm, appunto, eh, va a, eh, ad integrare i programmi attuativi degli interventi, quantificando il relativo stanziamento e destinando agli ambiti di distrattuare le risorse attribuite alla regione Abruzzo per le annualità 2016 e 2017. Cosa prevede quindi la regione Abruzzo e quanto ha messo su questi, eh, su questi aspetti. Alla lettera A prevede percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine per un importo di 846.000 euro. Soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare, 141.000 euro. Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzione alloggiativa, ok, si legge, pensavo non si leggesse, rappresentino caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine o gruppi appartamento, 705.000. Progetti tesi all'adeguamento, ristrutturazione e ristrutturazione di immobili già esistenti destinate all'accoglienza di persone con disabilità, 987.000. Promozione dell'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, 141.000. In questa stessa deliberazione leggiamo che gli interventi previsti alla lettera A, B e C, quindi percorsi di accompagnamento all'uscita, soggiorni temporanei e supporto alla domiciliarità, sono stati tutti avviati dagli ambiti distruttori sociali e abbiamo 122 progetti individuati. Dicevamo che con la ripartizione del fondo la Regione si è impegnata a rispettare alcuni requisiti per la programmazione e l'attuazione. Innanzitutto la valutazione multidimensionale. Agli interventi del presente decreto accedono le persone con disabilità grave previ a valutazione multidimensionale effettuata dall'equip multiprofessionale in cui si erano presenti almeno le componenti cliniche e sociali, secondo i principi della valutazione biopsicosociale in coerenza con il sistema di classificazione ICF. La valutazione multidimensionale, lo dicevamo prima, analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità della vita. In Abruzzo sappiamo che il PUA, quindi il punto unico di accesso trasmette casi all'UVM unica per l'ammissione alle cure domiciliari e per l'ammissione nelle residenze, previste nel distretto sanitario di base ed è composta dal responsabile del distretto, infermiere, medico, medico specialista e assistente sociale. Si precisa anche che per la 112 in tali UVM saranno affiancate dalle equipi multidisciplinari previste dalle linee guida per il servizio di inclusione sia. In questo momento non mi viene la sigla. La scala utilizzata in l'UVM è la Svamdi e la Regione Abruzzo ha previsto come modalità di verifica che gli enti d'ambito sociale dovranno monitorare e rivalutare con cadenza trimestrale nel primo periodo e semestrale successivamente i progetti personalizzati avviati. Un altro criterio previsto che deve essere appunto attuato dalle regioni è che alla redazione, alla predisposizione del progetto deve essere garantita la partecipazione della persona con disabilità per l'intero procedimento e questo va in coerenza con quello che ANFAS ma anche altre associazioni stanno portando avanti da anni rispetto al sostegno alla presa della decisione alla cosiddetta autodeterminazione e autorappresentanza. Le regioni devono impegnarsi negli ambiti ad adottare strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte. La valutazione del progetto individuale, lo dicevamo prima, ogni progetto personalizzato dovrà contenere il budget di progetto. Il budget di progetto non è solo il valore economico di quel progetto ma va ad indicare e ad elencare quelle che sono tutte le risorse umane, economiche, strumentali che devono essere utilizzate nello specifico progetto in maniera flessibile, dinamica ed integrata. L'attività di programmazione nelle regioni doveva prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore e nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza del settore dell'assistenza alle persone con disabilità alle famiglie che si associano per le finalità dette. Ho voluto riportare anche in queste slide quella che era la situazione del territorio prima della legge 112. Sicuramente il primo impulso nella regione Abruzzo verso un sistema di residenzialità è stato basato sulla realizzazione di strutture comunitarie a dimensione familiare, quindi si parlava già di riprodurre un ambiente familiare e nel 2002, grazie al recepimento da parte dell'amministrazione regionale delle previsioni dell'articolo 81 al 388 del 2000, è stato stanziato il primo fondo a livello nazionale per lo sviluppo di residenze per il dopo di noi. Quindi sono state già costruite con il decreto il DM470 del 2001, cinque strutture dopo di noi, a Scerne di Pineto, ad Avezzano, a Teramo, a Pescara e a Sulmona. Ad esse sono da aggiungere, oltre a quelle costruite con la 470, la comunità casa rosa di Roseto degli Abruzzi e la comunità con noi dopo di noi realizzata dall'Anfa Silanciano con un finanziamento della provincia di Chieti. Quindi già prima della legge 112 c'era qualcosa in Abruzzo che era stato realizzato e che andava proprio nel senso della legge 112. Ci sono state anche esperienze non di strutture ma proprio di percorsi realizzati. In questo caso ho portato un'esperienza di Anfas Pescara, era un progetto chiamato Prove di Futuro finanziato dalla legge regionale 95 del 95 e appunto questa è stata un'esperienza del 2011 in cui alcuni ragazzi con disabilità con diverso grado di intensità di sostegno, quindi dai più lievi a quelli che avevano maggiore necessità, hanno provato a vivere insieme, lontano dalle famiglie, per otto weekend in questa struttura che è la casa famiglia chiamata appunto la Gabbianella di Anfas Pescara e hanno trascorso otto weekend in piccoli gruppi imparando a fare quelle che sono quello che è il vivere quotidiano, quindi fare la spesa, cucinare, rigovernare la casa ma anche soprattutto spostarsi nel quartiere, organizzare il tempo libero e compiere tutte quelle azioni che ogni persona svolge ogni giorno. Diciamo che per alcuni di loro è stata, mi piaceva riportarlo perché a volte nella 112 diamo per scontato delle cose. Ad esempio in questa esperienza alcuni ragazzi non avevano mai dormito lontano da casa ma soprattutto non avevano mai dormito lontano da un proprio familiare, quindi sicuramente c'è stato un lavoro di distacco graduale, di fiducia nell'operatore che li accompagnava, nel volontario e anche nel creare un legame tra le persone, tra i gruppi che si trovavano, perché comunque ogni ragazzo ha la propria personalità, le proprie esigenze, ma attraverso un lavoro graduale si è riuscita a fare questa esperienza che sicuramente ha avuto un impatto molto forte e che ha visto anche un parallelo percorso che è quello che poi Anfas fa parallelamente portare avanti la 112 nell'accompagnamento dei genitori perché oltre alla persona con disabilità ci deve essere un lavoro con i familiari per il graduale distacco dai propri figli di cui si sono presi totalmente carico al di là dei sostegni ricevuti, ma comunque c'è stato un lavoro di cura, quello che dicevamo prima, molto intenso e quindi anche loro hanno bisogno di essere accompagnati in questo distacco graduale. Oltre a vivere le proprie giornate ed essere accompagnati in questo percorso che per loro è stato entusiasmante, quello che mi piaceva raccontare anche di questa esperienza è stata la grande rete del territorio, cioè sono stati davvero accolti nella comunità e hanno lavorato in sinergia con altre organizzazioni. Qui ho portato ad esempio la foto dell'esperienza con la Croce Rossa e con la protezione civile. Cioè i ragazzi hanno potuto fare esperienza di questa rete del territorio e acquisire anche quelle competenze di base che poi hanno potuto spendere ad esempio per la prevenzione in caso di terremoti o di piccoli incidenti domestici. Hanno acquisito delle competenze e anche la rete che ci ha affrancato in questo percorso è stata sensibilizzata ad operare con le persone con disabilità intellettiva e relazionale, quindi con tempi e modalità diverse da quelle che si avrebbero con un contesto appunto non di persone con disabilità. Tornando alla 112, quindi una volta emanati gli atti dalle regioni, sono stati pubblicati avvisi pubblici dagli ECAD. In questo caso porto l'esempio dell'ECAD 15 di Pescara che ha fatto un percorso un po' diverso. Cioè gli ECAD numero 15, 16, 17, 18 e 19, quindi gli ambiti distrettuali sociali della provincia di Pescara si sono accorpati per emanare questi avvisi pubblici per la presentazione di domande, per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di sostegno per la 112. Sono stati quindi emanati questi avvisi in tutto il territorio di Pescara con la descrizione dell'intervento, quindi sono stati previsti i percorsi di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare, l'azione A1, i soggiorni temporani per l'azione A2 e il supportato di domiciliarità, azione B. Ed è stato attribuito un costo giornaliero mensile che quindi non è andato a stabilire quello che dicevamo prima, quella che è la previsione della legge, ovvero un budget di progetto, ma un costo giornaliero mensile. Quindi, portato l'esempio di quello che è accaduto, prima di concludere volevo un attimo ricordare quello che dovrebbe essere l'iter completo dopo l'attivazione delle misure. La persona con disabilità, aiutata dalla propria famiglia, deve presentare richiesta del progetto individuale dell'articolo 14 della legge 328, con esplicita richiesta anche di previsione all'interno di esse di misure per il durante e dopo di noi. Se ha già un progetto di vita personalizzato, deve presentare l'istanza per l'implementazione del progetto stesso nell'ottica della legge 112. Una volta fatta richiesta, si passa alla valutazione multidimensionale la costruzione di un progetto individuale con il relativo budget di progetto, ipotizzando anche quindi un intervento finanziato eventualmente dalle risorse di quella legge 112. Viene verificata l'idea progettuale da far finanziare con fondo la legge 112 che ha come beneficiare i ultimi più persone con disabilità insieme, ad esempio, come nei progetti di co-housing, comunque da integrare con le misure di assistenza e di cura già proprie dei singoli. Vengono attivate delle misure con individuazione di quelle finanziabili attraverso la legge 112, quindi all'interno di un progetto globale in cui siano previsti più sostegni, vengono individuate quelle che sono finanziabili dal fondo 112, che ricordiamo sono risorse aggiuntive e non sostitutive. Viene messa a regime ogni misura della singola persona oppure di tipo comunitario rispetto al territorio, quindi l'importanza di fare rete con le associazioni e con gli enti è sicuramente rilevante. Il monitoraggio, appunto, la valutazione delle misure attivate, una volta che vengono attivate, bisogna poi mantenerle negli anni successivi, valutare degli esiti e quindi mantenerle negli anni successivi. Una persona con disabilità che ha fatto tanto insieme alla propria famiglia per attivare un percorso non può poi vederlo l'anno successivo per mancanza magari di una struttura o di un fondo o di un percorso anche di accompagnamento da parte dell'ente, non può vederlo poi interrompere. Il bilancio degli interventi, quindi anche per il mantenimento del tempo, quello che dicevamo, è l'implementazione del sistema di allargamento progressivo della platea dei beneficiari. Cioè, vanno rifinanziati i progetti già esistenti, ma anche ampliata la platea dei beneficiari. Concludo con un'esperienza che va un po' a racchiudere quello che deve essere l'obiettivo della 112, quindi integrare gli interventi. Nel 2018, come Anfa Spescara, abbiamo partecipato a un progetto nazionale sul progetto Capacity. Era un progetto che andava a implementare la capacità di scelta delle persone con disabilità intellettiva, fornendo loro formazione e strumenti adatti. e noi abbiamo partecipato con alcuni ragazzi, appunto, con diversa intensità di sostegno, sperimentando proprio la progettazione individualizzata e utilizzando quello che dicevo prima, che descrivevo prima, il sistema di matrice ecologica, questo software. Rispetto a questa persona, un uomo di 45 anni, abbiamo visto che gli obiettivi di sostegno rispetto ai suoi bisogni e desideri e aspettative riguardavano in particolare la promozione dell'adultità e la graduale emancipazione delle figure genitoriali, la promozione dell'empowerment e l'implementazione dell'inclusione sociale. Abbiamo quindi redatto un progetto che va proprio ad integrare quelle che sono le risorse e qui ho messo quelle formali, ovviamente a queste poi nel progetto vanno aggiunte tutte le risorse informali, quindi il sostegno della famiglia. E questo ragazzo, questo uomo oggi ha a disposizione una serie di servizi, una serie di sostegni che vanno dal centro di urno per l'inclusione attiva nelle ore di urne ai progetti sperimentali di vita dipendente, quindi una persona al suo fianco che è un assistente che comunque ha il compito di favorire la partecipazione alla comunità, di gestire il suo tempo libero, ma anche di fare un lavoro educativo di emancipazione. la partecipazione al bando Home Care Premium, quindi del contributo da parte dell'Inps per alcuni altri servizi. E in questo momento, presso la gabbianella di Anfas Pescara, sta sperimentando anche quelli che sono i soggiorni temporanei proprio per portare avanti questo distacco dalla sua famiglia. Tutti questi interventi, forse se io chiedessi adesso qual è l'intervento rispetto al dopo di noi, risponderemo il secondo, il soggiorni temporaneo della legge 112. In realtà, se sono riuscita a far comprendere qual è la portata della 112, tutti questi interventi servono durante il dopo di noi. Cioè, questi interventi integrati servono ad aiutare ogni singola persona a progettare nell'oggi un futuro per il proprio domani secondo le proprie aspettative. Perché dobbiamo non dimenticare mai che il dopo di noi non è una struttura, non è un posto letto in una struttura, ma è il riconoscimento di un diritto soggettivo. Rispetto a quelle che sono l'obiettivo di queste giornate dobbiamo pensare che occorre garantire un modello di interventi che modificando profondamente i rapporti tra istituzione e società civile garantisca maggiore soggettività e protagonismo alla società civile, aiutandola nella realizzazione di un percorso di auto-organizzazione e di auto-determinazione fondato sui valori comunitari della solidarietà, della coesione sociale e del bene comune. Tutto il terzo settore, inclusi le associazioni, possono sia sostenere e non sostituire la persona con disabilità nel proprio percorso di vita indipendente, sia creare quelle forme di inclusione su base comunitaria che consentano alla persona di vivere in condizione di fare opportunità con gli altri. Molti degli interventi ipotizzabili nei progetti individuali come l'ultimo che abbiamo visto non ricalcano le unità di offerta ordinarie e quindi, oltre a un'assistenza indiretta per servizi singoli di più immediata attivazione, occorre anche favorire una coprogettazione nel terzo settore nel creare interventi nuovi e su misura delle necessità emergenti dai bisogni. Grazie. 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 Grazie.